E' stato accertato nella giornata di ieri un caso di meningite batterica a carico di un ragazzo frequentante a un istituto superiore di Agropoli. La diagnosi è stata operata con solerzia dai sanitari dell'ospedale di Vallo della Lucania che hanno disposto il trasferimento del giovane presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Immediatamente appena ho avuto la notizia ci siamo attivati andando a mettere in modo tutti i protocolli che l'ASL e la prevenzione collettiva ha da dispone in questi casi. Ci tengo a precisare che l'obiettivo principale però se vogliamo fare le cose nel modo giusto abbiamo cercato di capire con chi era stato in contatto questo ragazzo. Perché poi in realtà non è un batterio, un virus che si trasmette in maniera così semplice e banale. Ci vuole comunque una frequentazione di almeno 6-8 ore, con la persona ci vuole un rapporto ravvicinato e quindi non è che uno in mezzo alla statua incontra una persona che ha questa malattia e viene immediatamente insomma contagiata. Quindi cominciamo a mettere le cose nel modo giusto per evitare confusioni, per evitare isterie collettive. Quindi la prima cosa da fare è fare fare la profilassi che poi si tratta di prendere un antibiotico semplice, un ciproxin da 500 va benissimo insomma quindi perché il batterio quando non è incubato, quando non è arrivato nella meninge è un batterio molto debole di per sé. Quindi basta un semplice antibiotico per risolvere il problema. Quando purtroppo si insinuano nella meninge diventa una cosa pericolosa, ma non è una cosa che accade in maniera automatica né frequente. Quindi certamente un colpo di sfortuna nel caso di quello che è successo ad Agropone, un grande colpo di sfortuna. Io almeno la giudico così per quel che mi è stato dato di capire. La stessa AS l'ha disposto alla profilassi a base di antibiotici per compagni di classe e relativi genitore, oltre che delle persone che sono venute in contatto con il giovane. Inoltre si è proceduto alla sanificazione dei locali della scuola anche da parte del comune di Agropoli. Abbiamo saputo insomma che è stato anche in una gita, quindi sono stati informati tutti coloro che sono stati a contatto con lui nel pool, ma insomma le persone che sostanzialmente lo frequentavano. Questo era ciò che il protocollo insomma richiedeva. Non altro. Sono state fatte richieste di chiusure di scuola che sono non appropriate. Immediatamente nel pomeriggio il liceo classico è stato oggetto di un intervento da parte direttamente della scuola di pulizia e sanificazione. La cosa più importante è arreggiare i locali. Il comune proprio per tranquillizzare ulteriormente i genitori del liceo, perché capisco anche le preoccupazioni, ha fatto un ulteriore intervento stamattina di pulizia del liceo per mettere veramente tutti tranquilli, ma realmente non era previsto nel protocollo e non era una cosa necessaria. Però, come dire, non fosse altro per tranquillizzarsi tutti quanti l'abbiamo fatto. Quello che ci tocca ora fare sostanzialmente è un monitoraggio per almeno una decina di giorni dei ragazzi che sono stati a scuola. Anzi, io penso sia addirittura meglio andare a scuola, perché così diciamo si ragiona insieme e si fa un monitoraggio degli studenti stessi. Quindi chi dovesse, nei prossimi 10 giorni, prendere la febbre, allora uno fa un monitoraggio e tiene la situazione sotto controllo. Questo è quello che dobbiamo fare. Non perdere la serenità, la tranquillità che non deve essere mai in una comunità, non deve essere mai perduta. Si ribadisce che il caso accertato resta unico ed isolato. È stato escluso infatti il presunto contagio a carico di una ragazza che nei giorni scorsi era stata a stretto contatto con il 15enne. Le analisi effettuate presso l'ospedale di Vallo della Lucania nella mattinata odierna sono risultate negative. Giustamente una ragazza che ha frequentato questa persona che è stata affetta da meningite, giustamente quando ha visto che aveva la febbre, giustamente i genitori si sono preoccupati, sono andati subito in ospedale come era giusto che succedesse. E rapidamente le analisi hanno confermato fortunatamente che non si tratta di un altro caso, quindi siamo tranquilli. Ma quello che dobbiamo fare, come ho detto, è un monitoraggio ancora delle situazioni. Quindi per chi ha avuto contatti, ma contatti diretti. Cioè io voglio pregare le persone, ma io l'ho fatto informandomi con i medici competenti, con chi certamente ne sa più di me, che non ha senso immaginare il fatto che chi ha incontrato questa persona, il cuginetto, il fratellino, che non ha, che è un ragazzo che è un figlio unico, voglio dire, ma l'amico dell'amico, ho incontrato l'amico dell'amico. Non andiamo dietro queste cose. L'amico dell'amico non poteva avere, insomma, a sua volta l'infezione. Quindi cerchiamo di tranquillizzarci. Quello che dobbiamo fare in questa fase, ripeto, è contattare le persone che sono state a contatto con lui. Loro in teoria potrebbero aver preso l'infezione, ma tutti gli altri devono stare tranquilli. Siamo a disposizione, abbiamo pubblicato dei numeri, che si può chiamare l'ASL per informazioni. Noi siamo disponibili per tutte le necessità. Monitoriamo quello che succede, ma ci auguriamo che il caso sia unico e alla fine, insomma, quello che dobbiamo fare, ripeto, oltre a questa verifica, una preghiera per lui che sta male. Sindaco, un'ultima domanda. Conosciamo il ceppo della meningite che ha contratto questo ragazzo? Sappiamo che ci sono diversi ceppi. Credo che in ospedale abbiano isolato probabilmente il ceppo di provenienza. Se ce ne saranno necessità e possibilità, certamente lo pubblicheremo, appena ne avremo notizie. In caso di dubbio, chiarimenti, è possibile contattare il numero che fa riferimento agli uffici ASL 335 75 47 955.